Buongiorno, buongiorno. È lui o non è lui? Certo che è lui. L'ho schiso col botto. Ma che ci fai qua? Io veramente... Eccola, stava qua. La maglia per l'allenamento, Coccodrillo 88. Solo nel mio store potete personalizzare le vostre maglie. Adesso metto. Vai al top. Stamattina... Se... Se, 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 se. Stamattina se... Un po' così. Cioè, ragazzi, dai. It's only a match. Only a partita. Don't be scazzati, su. Dai, please. Alza di testa, dai. Tanto alla fine eravate fuori dall'Europa. Please. Sant'Arnel. Don't be abbattuti. Please. Alza, dai. Stand up. Alza la testa. Niente, raga, questi ancora... L'hanno mandata giù, si gira, si gira solo gli inglesi qua, eh. Se la so presa proprio per la partita, eh. Purtroppo... È così. Io ci ho provato anche stamattina. E oggi allenamento fatto. Tanto grusso. Oggi l'ho ucciso. Grazie. Grazie al cazzo. Vaffanculo, ah, bastardo. Allenamento. Non è meglio mangiare, raga. No, è vero, raga. Allenatevi. Ma secondo voi, dovrò portare nonna Maria a fare un giro sull'Apart? Sì o no? Volete il video su YouTube? Intanto andatevi a iscrivervi. Così vediamo quanto siete carichi. Fa! Eh? L'ampato? Fa! 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 Buongiorno! Buongiorno sto cazzo! Ma perché? Perché dai già a fanculo! Oh, adesso parto meglio la mattina! Eh, la mattina è aperto. Perché almeno ti ci mandano subito per tutta la giornata. Ma tu mi pare che non ti sei svegliato presto. Io mi sto svegliato bene. Ma non ti sei svegliato presto perché sono le 11 e sei in piedi ora. Eh. Quindi questa mattina non ti sei svegliato presto perché sono le 11 e sei in piedi ora. Io non ti ho visto questa mattina alle 8 e mezzo. Perché io mi fai i cazzi miei e tu va a fanculo e fatti tu e... No, si può campare cent'anni e fai cazzo di... È un po' scurrile. Ma io sto bene. Perché mi fai cazzo di... E campo cent'anni. Ah, no, 120. 120? Prossima settimana è il tuo compleanno e ti ho fatto una sorpresa. Eh, va bene. Non ti fa la sorpresa. Io intanto... Intanto magno, bevo e tiro a campare. Ti ricordi l'anno scorso che ti ho tirato quella bella torta in faccia? Eh, ma stavolta ti ho dato un papà a rompere la faccia? Ah, ah, che sega con questo steppà. Ah, a me devi fare un pennello laico. Ma tu me devi fare una sega. Ecco qua. No, perché un pennellino là? Mannaggia, oh. Da me, ma devi venire dietro a rompere i coglioni, eh. Questo serve? No, adesso metto tutto in cima. Oh, no. Mannaggia, ma questo è un imbecile. Ma è più grossa. Perché? Ma come, metto roba in volta a scrivere? No, dai, gli viene da rinno. Gli viene da rinno. Levate, scemo! Un po' wild. Franzetto. Guardate che bello. Sono Tarzan. Ah! Che bello. Vita fisica. Una bella crash. E una birretta. No, non fa così. I've lost the European Cup. Dai, su. Niente, raga. Salisce piangente. Inglese. Una nocciolina. Affamata. Eh? Quanto ci fanno? Dieci. Come mangiare? Tutto. Chi mangia un po' di tartufino? Io. Eh? Che bello. Io sta pancia la conosco. La pancia lasciala fare. Anche sto cincilla. Io ho mangiato, sto bene. Lascia fare anche questo. Che adesso sta da riposare. Perché? E perché sta da riposare? Io come, ma io come so? Tu fai la lillulera. Eh? Sei partito stamattina, arriva la sera. E poi? E dopo va a fare un culo. No. Sì. Addirittura. Eh no? Come ti fa un pennellino? Lei ti dico io che sono cazzato. Fammi te fa un pennellino. Perché tu a me che mi ho andato a bozzare la macchina. Mi rodo il culo. Perché io, la mia, non era bozzata. Chi ce la tenevo? Eh, ma le donne. Le donne. Ho cominciato a piarla, eh, le ha di tutte. La pino tutte, sta fuori, arrivo, la pino, buttalo là. Faccio poco guardare. Ahia. Ti fa un pennellino. Ma questa poccina? La poccina la fa. Guarda il pocciolo. Quale? C'è la pocciina. Che guardo? Il pocciolo. Come veniva a dormire con te stasera? Sì, come no. No, no. Leppe di coglione. Stasera però li vedo in forma, eh. E non forma stasera gli inglesi, eh. Eh, che forno stasera? Sono in forma che ha la buona casa che la mandavano una dietro. E non forma gli inglesi? Sì, la buona casa che la manda avanti o una dietro. Ma come mai stasera gli guarda la partita? Eh beh, non c'è niente guarda la partita. Come mai? Ah, che stasera. Va a fare quel che ti fa. Cora fa? Quel che ti fa, basta che te ne vedi. Ma tipo? Ah, va a fare un culo. Oh. Basta che me lascio via. Oh, con due lezioni. No, no, le minacce no, le minacce. No, no, l'ho messo. Tutti i fetali, eh. Mi raccomando. Con chi ce l'hai tu? Sono col portiere dell'Inghilterra. Che faceva? Faceva il ballerino, non l'hai visto? Alzava i bracci, si faceva vedere. E ne che fa? E a te mette il palo su. Eh, Bonucci. Sì. Chi ha segnato? Bonucci. Chi ha segnato? Bonucci. Chi ha segnato? Vabbè, il culo. Che ha fatto? Se l'ha presa sul culo. Eh? Se l'hai presa sul culo. Che ha preso? E il palo. E dopo? E il culo. E poi? E fu sto cazzo. Tutti a casa anche stasera, eh. O no? O no? Tutti a casa, eh. Tutti a casa, eh. Che bello rivedervi, bro. Sempre emozionante. Pallaha ma detto. Poi inarfa la partì.